Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con il giornale radiolocale. Incidente grave, quello registrato ieri pomeriggio su Via Domiziana, nel territorio campano, non a molta distanza dal confine con il Lazio, nella zona di Mondragone, all'altezza della Pineta, a Prisconte. Coinvolte nell'incidente due mezzi, di cui un autocarro che si è anche ribaltato dopo l'impatto, due il bilancio dei feriti, sul posto, oltre i sanitari del 118, anche gli uomini della Polizia Municipale di Mondragone per i rilievi. Rallentamenti e disagi sono stati segnalati per il traffico. Storia singolare a fondi, registrata sul lungomare nella giornata di domenica, quando un giovane bagnino di 16 anni avrebbe salvato prima due bagnanti che, a causa della forte corrente, stavano rischiando l'annegamento. Dopo il salvataggio, però, proprio quest'ultimo sarebbe collassato a terra, immediata si è attivata la macchina dei soccorsi con il trasferimento del giovane bagnino presso l'ospedale di Fondi, dove fortunatamente non sarebbe stato segnalato nulla di particolarmente grave. A far scattare il malore potrebbero essere state proprio le energie consumate nelle fasi di salvataggio. Mare mosso e forte risacca anche nella giornata di lunedì, quando la guardia costiera di Gaeta è dovuto intervenire a Sperlonga per salvare delle persone, nonché anche degli assistenti bagnanti bloccati dalle onde, proprio nella zona della grotta di Tiberio. Diversi viaggi dovuti operare con il gommone dai militari per portare in salvo le persone in difficoltà, ma alla fine, fortunatamente, tutti sono stati portati presso il porto di Sperlonga. Denunciato nelle scorse ore un uomo di 35 anni di lenola, questi dovrà rispondere del reato di truffa, l'uomo, secondo quanto reso noto dai carabinieri, aveva messo in vendita attraverso un sito web una bicicletta elettrica facendosi accreditare la somma su una carta ricaricabile, ma la merce non è mai stata spedita, di qui le indagini e poi la denuncia. Covid-19 calano i casi in provincia di Latina, dove nella giornata di ieri sono risultati di essere 12 nuovi positivi a fronte dei 46 della giornata precedente, 6 i casi riconducibili al territorio del Sud Pontino, con 3 positivi a Formia e 3 a Minturno, purtroppo torna a registrarsi un decesso, si tratta di un paziente di Terracina, 3 i ricoveri registrati, poche le vaccinazioni somministrate, scarse 1.500. quel salto domenica a Tokyo, quando in Italia erano da poco passate le 14 a 2,37 metri, poi gli errori a 2,39 metri e la medaglia d'oro ad ex equo con l'amico Barshir del Qatar, ieri la premiazione con l'Inno di Mamedi e la festa di Gianmarco Tamberi, insieme a Jacobs, che ha vinto l'oro nei 100 metri, vittorie dell'atletica italiana che hanno avuto un eco fino a Formia, Gianmarco Tamberi, in particolar modo, ha voluto ringraziare il centro di preparazione olimpica di Formia, Bruno Zauri, con un breve video ripreso anche dal messaggero, ascoltiamo le parole di Jimbo. Ciao ragazzi, a tutti quanti ragazzi di Formia, volevo ringraziarvi per quest'anno che mi siete stati veramente d'aiuto per la preparazione e tutto, sono un po' sconvolto perché non ho dormito neanche un secondo, quindi grazie a tutti quanti, un abbraccione dal direttore a tutti, ciao! Questa era la nostra ultima notizia, prima di salutarci vi ricordiamo che sul nostro sito web radiociviteinblu.it trovate tante altre news, un saluto da Simone Nardone e a risentirci alla prossima edizione del giornale radio locale.